sono cambiati i mercanti sono cambiati i vestiti che si mettono per andare a una vermice cioè quello con cui stai lavorando non è che ti devi allestire come una volta perché allora bucarelli docet ci si vestiva per no come oggi ancora è rimasta l'abitudine di vestirsi per i matrimoni per chi li fa e per chi ci va è cambiato tutto è cambiato anche l'atteggiamento del mercante verso l'artista mi sembra meno interessante di una volta molto meno interessante cioè oggi si vende o non si vende cioè si pensa all'investimento del denaro da parte non tanto del collezionista quanto del incidente quanto del mercante mentre una volta negli anni sessanta e anche negli anni settanta c'erano queste figure straordinarie da Sperone a Minini stesso oggi che facevano della vita e del del pensiero delle discussioni con gli artisti il loro motivo principale di fare quel lavoro mentre oggi tutto questo non c'è più ma oggi guardi che c'è un'ignoranza devastante grazie 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 grazie